Nel 1966 la famiglia si trasferisce a Trieste dove poi lui compie studi odontotecnici. Dopo un breve periodo di praticantato, inizia a lavorare nei teatri cittadini cimentandosi sia in testi d'avanguardia che in testi classici e partecipando all'allestimento di famose operette. Nel 1980 trasloca a Roma, dove continua a studiare e a recitare a teatro. Nel 1992 viene chiamato dall'emittente nazionale Telemonte Carlo a far parte del cast del programma televisivo per ragazzi amici mostri assieme ad Alessia Marcuzzi, Fulvio Falzarano e Massimo Sangermano. Mauro Serio in questa trasmissione in persona il ruolo di Inquinator.